Il Cimaglio insieme a Fontevecchia e Gran Casale è una delle critiche testoiche di Casalfaneto. Infatti la sua prima uscita risale al 1996. Può essere considerato la fuori serio di Verdicchio, né tradizionale né passito. Seppure in etichetta è un marchio bianco GT, è un vino ottenuto specialmente da lui di Verdicchio, raccolto a fine novembre, inizio dicembre, quindi in forte stato di sua maturazione, dopo che le Muffenobili hanno raccolto completamente i gratumi, resi ancora più sensibili dai primi freddi invernali. Il mostro ottenuto viene fatto fermentare molto lentamente in piccoli barili di legno. E' questo il momento più caratterizzato del Cimaglio, in cui la notevole struttura alcolica e acido del vino si sposa agli aromi ceduti allo sostituto dei legni, per creare così una sinergica struttura per un profilo sensoriale molto importante. Il vino ottenuto viene fatto affinare poi in cantina per essere messo in commercio non prima di 24 o 30 mesi dalla vendegna. Dal punto di vista naolettico, è un vino di notevole struttura, di grande eleganza, di grande complessità e morbidezza, con un profilo sensoriale unico. Al nasce esprime dolci sentori di vaniglia, seguiti da note di maturre di melatonia, mantura, sfumature speziate. In bocca invece evidenzia tutt'un po' la grande struttura, la morbidezza, è calda, è avvolgente, si riscontrano con tutte le note dell'olfatto, in più si percepisce il miele ottenuto dall'amuffatura delle uve. Se avete una temperatura di 12-14 gradi, quindi non troppo fresco, è un grande vino da conversazione, da meditazione, da compagnia, da chiacchiera, da fine pasto. Oppure è eccellente se viene abbinato a dei formaggi, i formaggi ovviamente stagionati, di lunga stagionatura, erborinati, gorgonzola. E' anche un eccellente vino se è abbinato a dei piatti di pesce molto consistenti, quale può essere lo stoccafisso, il brodetto di pesce. Può essere abbinato a dei primi piatti con condimenti a base di formaggio, oppure con primi piatti con cartufo. Oppure di piatti molto decisi, molto forti, quale ad esempio può essere il Florano. Vi invito alla degustazione del Cimaglio. Grazie a tutti.